Ok proseguiamo, quindi la caserma l'abbiamo promossa? Diciamo abbastanza sì, nel senso che si sono un po' sfuggiti sulla storia della segnalazione che vogliono evitare di individuare, loro dicono tu vai all'ingresso principale se hai problemi loro ti segnalano l'altra parte, però basterebbe anche segnalarlo da... Sì è una cortezza in più Esatto, è più una questione diciamo culturale che dobbiamo per certi versi promuovere Problemi quelli che troviamo in giro per tutto il mondo, in tutto il mondo quindi locali non accessibili, bagni non accessibili quindi insomma che noi diventiamo disabili in quel momento quando il locale, il bagno, l'attività commerciale, il negozio, la banca, la posta non è accessibile altrimenti siamo persone come le altre la nostra disabilità è in base al territorio in cui siamo Quali sono le problematiche più frequenti che riscontrate nell'accessibilità? Le problematiche più frequenti è proprio quello che ha detto il mio compagno Paolo Vichi l'accessibilità, purtroppo anche quando andiamo a mangiare su qualche ristorante, qualche locale c'è posto per disabili? Sì vai in bagno e trovi un bagno che non è accessibile, la porta è troppo stretta, il water è bassissimo i rubinetti micidiali per terra, noi non rubiamo i piedi, se io mi devo lavare le mani come faccio a usare l'acqua? Che c'è un rubinetto per terra bagno è accessibile, i pedali per aprire i rubinetti secondo me il disabile è il proprietario di quel locale che dice che c'è l'accessibilità per i disabili, non sono io perché io ho domandato prima è accessibile e trovo che non è accessibile Quali sono le problematiche più frequenti che si incontrano? La problematica frequente per i negozi è il gredino che come lei può guardare non è accessibile nel senso che da solo, senza nessun aiuto è impossibile farlo questa direi che è una miopia da parte dei negozianti perché i miei soldi sono uguali ai suoi soldi ai soldi di qualcun altro, quindi dovendo entrare a acquistare qualcosa o per me o per mia moglie perdo un cliente comunque sia e questo è quanto l'altro grande problema è una questione di civiltà il parcheggio che di solito viene o occupato o anche chi lo disegna a terra non lo disegna con dimensioni sufficienti il che significa che andando in giro da solo in carrozzina non si può aprire lo sportello e non si può scendere, quindi si deve ricorrere a mille strade gemmi e questi sono due dei problemi più grandi secondo me è un problema di cultura bene, perché andando in giro anche in altri paesi in Europa capita spessissimo di trovare luoghi non accessibili anche storici che poi hanno trovato uno stratagemma per renderlo accessibile quindi è semplicemente una questione di buona volontà e di un piccolo segno di civiltà quando si riguarda il parcheggio o lo scivolo al marciapiede questi che sono tra virgolette i potenziali nemici di chi va in giro in sede rotelle sì, anche perché è una rampa d'accesso anche piccola quella è banale, se lei riuscisse a inquadrarlo potrebbe che è un gradino piccolissimo a volte è anche menefrismo forse magari mancanza di accortezza o magari nessuno gliel'ha detto diciamo così però c'è una normativa quindi chi è preposto a far rispettare la normativa sarebbe dovuto essere qui con noi e farsi un giro e segnare quelle che sono le mancanze forse questa è una grave mancanza da un altro punto di vista cioè le istituzioni alcune volte si preoccupano dell'accesso all'istituzione ma poi lasciano al privato diciamo carta bianca loro dovrebbero controllare perché loro sono preposti sono lì per fare questo per difendermi e per difendere ogni cittadino come tra virgolette dice la Costituzione grazie a tutti grazie a tutti